il futuro del direttore sportivo Alessandro Battisti, anche se si vocifera il possibile affiancamento tecnico di un'altra figura, al DS Teatino, che ha altri due anni di contratto con l'Aquila. Da lunedì si penserà intanto al tecnico e all'allestimento della squadra, anche perché ormai è sempre più certo che l'Aquila giocherà in Serie D. L'ipotesi ripescaggio al netto delle parole del presidente della Lega Pro Gabriele Gravina sull'illecito sportivo sia diretto che oggettivo, non lascia infatti molti spiragli di speranza alla compagine aquilana. Il resto, tra cui Brunamonti, Mililli, Cipriani, Valentini, Rossi e Baldassarra. Intanto sul fronte tecnico resta ancora in dubbio il futuro del direttore sportivo Alessandro Battisti, anche se si vocifera il possibile affiancamento tecnico di un'altra figura, al DS Teatino, che ha altri due anni di contratto con l'Aquila. Da lunedì si penserà intanto al tecnico e all'allestimento della squadra, anche perché ormai è sempre più certo che l'Aquila giocherà in Serie D. L'ipotesi ripescaggio al netto delle parole del presidente della Lega Pro Gabriele Gravina sull'illecito sportivo sia diretto che oggettivo, non lascia infatti molti spiragli di speranza alla compagine aquilana.